Grazie a tutti i miei amici, sono qui per commentare le letture della 23esima domenica del tempo ordinario, anno A. Dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, «Se tuo fratello commetterà la colpa contro di te, vai e ammoniscilo, fratello e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te, una o due persone, perché ogni cosa si è risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà, costoro, dirlo alla comunità. Se non ascolterà neppure la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità ti dico, tutto quello che leggerete sulla terra sarà legato in cielo, Tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il padre mio che ne incendi gliela concederà, perché dove sono due o tre limiti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro». Prima lettura, il profeta Ezechiele. Chi è Ezechiele? Ezechiele era un bravo giovane ebreo, sui trent'anni circa, c'è scritto nella Bibbia, di famiglia sacerdotale, quindi stipe sacerdotale, poteva essere sacerdote. Sapete che si poteva diventare sacerdote soltanto se si apparteneva al tribù di Aronne o di Levi. Bene, il nostro Ezechiele apparteneva a una di queste due tribù, non sappiamo quale, però poteva essere sacerdote. Però il Signore non lo vuole sacerdote, lo vuole profeta. Chi sono i profeti? Non sono quelli che predicono il futuro, non sono gli astrologi, i cartomanti, no, sono persone, uomini e donne, che Dio chiama per parlare al suo popolo. Quindi dicono, se non farete questo, allora accadrà quello. In questo senso predicono il futuro. Se non fate questa cosa, allora accadrà quello. Questa è la chiave della funzione profetica. Verso i trent'anni il Signore lo chiama, lo fa diventare profeta. E qui comincia la nostra lettura, perché a un certo punto il nostro Ezechiele, che tra l'altro è il colo delle ossa aride, ricordate quel brano straordinario delle ossa aride, no? L'Ezechiele ha una visione di ossa in un prato, in un campo, e queste ossa rivivranno. Quindi predice, molti secoli di Cristo, la risurrezione dei corpi. Queste ossa aride risorgeranno e torneranno a vita nuova. Il grande profeta. Il nostro Ezechiele, in questo brano, dice, il Signore mi parla e mi dice, figlio dell'uomo, cioè tu, Ezechiele, figlio dell'uomo, essere umano, come tutti. Io ti ho posto come sentinella per l'Israele. Sei una guardia, sei un gendarme, in senso buono, sei un gendarme per il mio popolo. Quando io dico qualcosa, tu dovrai annunciarla al mio popolo. Il Signore non parla direttamente al popolo, parla tramite i profeti. E se io dico a malvagio, tu malvagio morirai, chiaramente la morte interiore, la morte dell'anima, quindi se fai peccato grave morirai nell'anima, tu malvagio morirai, e tu, Ezechiele, non dici queste cose a chi si comporta male, allora io ti riterrò responsabile della morte di questo individuo, la morte spirituale di questo individuo. Ci rendiamo conto della pesante responsabilità che abbiamo verso gli altri. Io troppe volte sento la gente che dice «Ma in fondo che mi importa degli altri?» Parlo di cristiani e cattolici, cioè battezzati, che mi importa degli altri? Faccia quello che vogliono, a un certo punto, ognuno è libero, ognuno è maggiore, è vaccinato, siamo in democrazia, siamo in libertà, quello abortito, quello abortito, vabbè, sono scelte su, sono questioni personali fra lei e il Padre Eterno, oppure quello divorziato, vabbè, che c'entra, sono scelte, chi sono io per giudicare? Famoso mantra, tormentone, chi sono io per giudicare? Io non giudico nessuno, però se uno si comporta male, posso dire che si comporta male, oppure è proibito, fatemi capire, perché altrimenti andiamo tutti a casa e facciamo altre cose, ma se vedo un ragazzo che bicchia un anziano, devo dire che ha fatto bene? Devo star zitto? No, ovviamente, non tacerò, come dice il profeta, griderò come una parte oriente, dice la Bibbia, quindi, ecco, allora, non si giudica la persona, si giudica il fatto, se un fatto è sbagliato, se chiaramente racconta la legge di Dio, devo dirlo, se no, altrimenti, sono complice, attenzione, sono complice di quel reato, di quel misfatto, pensiamo ogni tanto a queste cose, no? Se vedi il male, sto zitto, sono complice di questo male, Sant'Agostino, di Veneta Memoria, diceva sempre, il male ha due cause, chi lo fa e chi lo vede, sta zitto. Santa Caterina di Siena, diceva, a furi di racere, il mondo è marcito, tacci oggi, tacci domani, è chiaro che alla fine, si arriva a una situazione insostenibile, quindi, facciamoci le fane degli altri, con carità, con rispetto, con i dovuti modi, con delicatezza, senza aggredire, senza offendere, però diciamole le cose. Quindi, qui il profeta si trova avanti a questa imposizione del Signore, se Israele si comporta male e si comportava male, deve dire che si comportava male, se no diventa complice dello suo cielo, infatti pochi anni dopo, siamo nel VI secolo a.C., Israele fu preso in blocco e portato in esilio, e il Signore l'ha permesso, perché il popolo di Israele doveva capire, comprendere, crescere. Quindi a volte il Signore permette situazioni brutte o anche molto brutte perché noi capiamo qualcosa. Ecco, allora, mi raccomando, non spettegoliamo in giro, mi raccomando, non fatelo, se uno tradisce il coniuge, non andiamo a dirlo a tutti quanti, vabbè, ma tanto lo sanno tutti, no, 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 per pazienza. Evitiamo di fare il gossip, cosiddetto, che io detesto cordialmente, il gossip, è la cosa peggiore che si possa fare. Prendiamo la persona interessata e personalmente, faccia facile, guarda, ti voglio bene, ti stimo, però perché hai fatto questo? Perché la gente dice che hai fatto questo? Perché tutti sanno che hai tradito il tuo cuore al tuo merito da moglie? Facciamolo, vedrete che intanto guadagnerete in stima voi, cioè, dico, ah, questa è una persona che è di grande valore, e poi, questa persona, se si redime, ovviamente, sarà salvata, guadagnerà la vita eterna, se non ascolta, pazienza, io l'ho detto, poi non si può obbligare nessuno con la pistola da fronte, no? Dice, ti coperti, sì, no, c'ho la pistola da fronte, è chiaro che non si può fare, va bene? Ecco, quindi questo è un po' il senso di essere cristiani, i cristiani si fanno gli affari degli altri, si fanno gli affari degli altri, a volte mi dicono, tu che ti impicci, no, su Facebook magari, dico delle cose, ma a te che ti frega? Mi frega, mi frega, perché tu sei, un consanguineo, diciamo così, sangue è il mio sangue, essere umano è come me, quindi se sbagli, ho dovere e diritto di dirti che sbagli, poi se lo ascolti, vabbè, io però te l'ho detto, se non te lo dico, sono complice delle cose sbagliate che tu scrivi e pensi, ecco. Seconda lettura, San Paolo e i Romani, abbia detto innumerevoli volte chi sono i Romani ormai, lo sapete, sono persone di altre regioni oppure pagani convertite in cristianesimo che abitano a Roma e qui cominciano le persecuzioni e dice, Paolo, non si ha debitoria di nulla a nessuno, e vabbè, non contrate debiti, se non dell'amore vicendevole, amatevi, dice, amarsi, una parola, come faccio ad amare chi mi detesta, chi mi odia, chi mi vuole male, chi mi vuole distruggere. Diciamo così che io non posso andare a pranzo a cena con il nemico, se uno mi odia a tal punto che vuole distruggere, mi vuole il mio male, continuo a parlare di me, non posso avventare la cena a pranzo, a parte che non verrebbe mai. però ecco, posso pregare per questa persona, già la preghiera per gli altri è un atto di amore profondo, mi odi, mi detesti e non so perché e non mi vuoi parlare, però io prego per te. Eccezionale come programma di vita. Facciamolo, quindi, se abbiamo persone che ci vogliono male, prima chiediamogli perché mi vuoi male, che ti ho fatto? Ho sbagliato, ti ho offeso, ho detto qualcosa che non dovevo? Se non risponde, vabbè, pazienza. Io gli ho chiesto, però prego per te. E quel che Signore ti converta che dia la pace, ti concede la pace, perché chi odia sta molto male dentro di sé, sta molto male, ricordatevi, chi odia e vuole male degli altri sta malissimo, vive già una condanna dentro di sé, vive il purgatorio, l'inferno forse, dentro di sé. Io prego perché tu abbia la pace, troverai tua pace, eccetera, eccetera. L'altra cosa importante di questo brano, che qui non si dice però, il nostro Paolo ne parla, è siate buoni cittadini, obbedite allo Stato. Dice, ma se lo Stato mette in atto leggi, norme, contro la fede cattolica, e lì non bisogna dire, ovviamente, bisogna resistere con tutti i modi leciti, leciti, non illeciti, leciti. Per esempio, se l'aborto è legge di Stato, e lo è, da decenni, il medico cattolico deve fare il bisogno di coscienza, deve dire, io no, non mi sento di fare aborti. E se li fa, vuol dire che qualcosa non funziona. E così via, tutto il resto. E se questo comporta la privazione di libertà, la morte di chi resiste, è lì una bella questione. Il martirio. Il martirio è una grazia di Dio. Non a tutti viene chiesto. Ci vuole la grazia per affrontare il martirio. Non lo so, se un giorno mi chiedessero il martirio, dovessi pormi davanti del martirio, non so come reagirei. Ci vorrebbe veramente la grazia di Dio che mi induce ad accettare il martirio, perché altrimenti da solo come essere umano non ce la farei. Dico chiaramente. Speriamo di non essere mai in condizioni di accettare dove testimonare quel martirio, però ecco, è veramente infatti c'è un prefazio che dice doni agli inermi la forza del martirio. Sono inerme, se però il Signore mi dà la forza, io accetto anche il martirio. Posso anche testimoniare il suo amore col martirio. forse in Italia non succede però in molte nazioni del mondo c'è molti martiri, cristiani, tantissimi. Bene, l'Evangelo ci dà delle condizioni pratiche per poter affrontare chi sbaglia, insomma, chi se il fratello commette una colpa contro te oppure contro altri ammoniscilo fratello non andare in giro a dire ma quello mi ha fatto quello mi ha fatto quell'altro io su Facebook tutti i giorni quasi vedo gente che dice ma quello nome e cognome mi ha fatto questo mi ha fatto no, 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 a parte che è un reato potrebbe anche avere repercussioni legali no, diffamando qualcuno eccetera ma poi non va bene parlare di qualcuno assente perché non può difendersi quindi molto meglio specialmente poi se sei un prete allora sei un prete ah quel prete mi ha detto quella cosa mi ha offeso davanti a tutti perché perché lo dici perché di solito no quindi scordare due campane no se un prete regisse così vuol dire che qualcosa è successo no tutti i preti sono dei mostri sono dei criminali assassini e dice quindi se il fratello commette una colpa contro di te ammoniscilo fra te lui o lei se ti ascolta bene benissimo se riconosce l'ho sbagliato perfetto è finita lì se però non ti ascolta allora piglia con te alcuni vai da lui e da lei e dici guarda hai fatto questo questo e quest'altro tipico dei parroci no ah quel parroco non ha fatto quella cosa e allora io ho detto a tutti devono sapere tutti cosa non ha fatto o cosa ha fatto quel parroco bene allora piuttosto che dire queste cose e prendi alcuni parrocchiani andate da lui in delegazioni di reverendo ti vogliamo bene ti rispettiamo perché sono consacrato però questa cosa spiega cioè perché non abbiamo capito perché hai fatto questo o non hai fatto quell'altro e vi dirà se realmente pensate che aveva sbagliato succede a volte succede che anche pietro poveraccio sbaglia quando rinnega il signore però no se sbaglia allora potete scrivere al vescovo eccellenza guardi che il sacerdote tale d'Italia ha fatto questo e non doveva farlo ha commesso un abuso secondo la legge canonica non ha rispettato ecco però siate consapevoli di quello che fate assumetevi le responsabilità altrimenti diventa tutto un gossip io odio veramente il gossip la cosa più che vabbè lasciamo stare ormai è diventata la norma il gossip in televisione dappertutto si fa gossip per carità il mondo peggiora perché domandatevi perché ecco per queste cose perché di fronte al male preferiamo spettegolare sparlare giudicare condannare no 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 abbiate pazienza ecco allora e ricordate sempre che la verità va detta con misura con carità con dolcezza la verità non è un bastone con cui bastonare sulla testa gli altri no una cattiva una cattiva verità è peggio di una menzogna quindi se non è il momento di dire la verità sto zitto prego penso rifletto aspetto che sia il momento giusto perché altrimenti se per esempio la persona non può sostenere non può sopportare una verità e magari questo va in crisi violenta non facciamo il bene suo la verità fa crescere non fa morire qualcuna ecco allora questo è un po' il senso dei nostri esseri cristiani misurare le parole non siamo così persone che feriscono ma che fanno nascere possibilmente ecco allora il messaggio di oggi ricordiamolo brevemente il nostro Ezechiele è mandato al Signore a dire al suo popolo ti comporti male fallo se non sei complice morirei insieme con loro se non lo fai Ezechiele lo fece ovviamente si deve da fare si deve da fare parecchio però il popolo purtroppo non lo ascoltò infatti furono presi portati in Babilonia l'attuale Iraq Babilonia era quella periodo terribile bruttissimo per Israele dice San Paolo amo il tuo prossimo come te stesso è chiaro che devo amare me stesso innanzitutto se non amo me stesso neanche gli altri posso amare ovviamente se mi disprezzo mi detesto non posso sopportarmi come faccio ad amare gli altri un po' di autostima ci vuole ecco allora ricordiamoci questo obbediamo allo Stato le sue leggi siamo buoni cittadini noi cattoli siamo buoni cittadini votiamo tutto il resto però se una legge una norma è contro la nostra fede non dobbiamo osservarla non dobbiamo osservarla non dobbiamo osservarla speriamo non capiti mai Vangelo abbiamo detto Gesù dà delle norme ben precise molto chiare su come correggere i fratelli e sorelle soltanto alla fine dillo a chi dovere denuncia fratello e sorella l'autorità perché altrimenti ripeto se non si converte tu risponderai no Gesù dice chiaramente non hai fatto questo ai miei fratelli più piccoli quando non ho fatto questo e quando non hai eccetera eccetera quindi peccati di omissione sono peccati come gli altri e ricordiamoci di confessarli perché altrimenti saremmo chiesti ci avrei chiesto conto di quello che non abbiamo fatto non hai preso posizione contro non hai sopportato il debole non hai difeso diritti del feto di fronte all'aborto eccetera quindi mi raccomando essere cristiani non è una passione di salute non è una cosa così estemporanea è impegnativo ci vuole pazienza carità grazia preghiera per poter essere cristiani secondo il cuore di Cristo grazie per l'ascolto la pazienza di domenica al prossimo in tempo di pandemia speriamo che sia finita buona domenica grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto